Ben trovati. Il commissariato di polizia di Senigallia sta conducendo indagini sulla morte di un uomo di 47 anni trovato primo di vita in via Tintoretto all'interno della sua auto. Sono stati sentiti familiari e amici della vittima e acquisite notizie circa i luoghi che frequentava. La magistratura ha disposto l'autopsia sul cadavere ancora, non è chiaro se si tratti o meno di morte naturale. Non sopportava la rete di confine che divideva la propria abitazione da quella del vicino e l'ha quindi rimossa e il vicino di casa lo ha denunciato. I carabinieri hanno denunciato così un 59enne di Crotone, ma domiciliato a Trecastelli per i reati di furto aggravato, danneggiamento, minacce e violazione di domicilio. Ammonta a 400 euro circa il bottino delle offerte rubate sabato sera nella chiesa di Pianello di Ostra, dove il parroco ha incastrato i ladri immortalati nei filmati delle telecamere a circuito chiuso. Hanno sfondato il portone dei locali parrocchiali e hanno portato via i soldi delle offerte. Bilancio sano per il comune di Senigallia che chiude il 2013 con il parere favorevole dei revisori dei conti e l'invito a spendere di più, monitorando al tempo stesso i contenziosi. Via Libera quindi al rendiconto di gestione, approdato ieri pomeriggio in commissione con i conti dettagliati dei soldi entrati e usciti dalle casse comunali nell'anno 2013. Al Panzini di Senigallia è stata programmata la cena della solidarietà. Vediamo. L'Associazione Giardino degli Angeli Ollus e l'Istituto Alberghiero Panzini si trovano insieme per il consueto appuntamento annuale a sostegno della scuola materna e dell'Istituto Alberghiero Planet Panzini di Canavieiras. Venerdì prossimo 11 aprile 2014 alle 19.30. Ci ritroviamo qui al Panzini per invitare tutti i nostri amici a questa cena di beneficenza che da dieci anni svolgiamo al Panzini in segno di collaborazione ed amicizia per aiutare i nostri progetti che facciamo a Canavieiras a favore della scuola materna dove abbiamo circa 55 bambini, il doposcuola elementare dove ne abbiamo altre tanti e dove abbiamo anche un'esperienza professionalizzante con il Planet Panzini, una scuola alberghiera fondata proprio qui nel segno di questa collaborazione che ospita 45 allievi che troveranno poi occupazione nelle attività turistiche nello stato di Bahia. Ci fa piacere collaborare per un fine che vede i nostri ragazzi partecipare a momenti di formazione, in momenti di incontro nelle classi con la signora Silvia, con Simonetta Sagrati che mettono a disposizione il loro tempo per fare in modo che i ragazzi si avvicinino a queste problematiche della solidarietà verso chi ha meno fortunato di loro, dei nostri ragazzi. La comunità di Trecastelli è pronta per festeggiare con orgoglio i suoi diciottenni. Giovedì 10 alle 18 presso la sala polifunzionale in località Ripe si svolgerà la manifestazione anche noi maggiorenni. Sarà il primo incontro dei ragazzi di Trecastelli che nel corso dell'anno 2013 e nel primo semestre del 2014 hanno compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età. È tutto anche per oggi, grazie per averci seguito. Vi do appuntamento all'edizione di domani. Grazie.